Da lunedì la campanella tornerà a suonare anche per gli alunni delle scuole medie. La regione ha ufficializzato con tanto di ordinanza il rientro tra i banchi. Il dispositivo richiama le attività di screening e monitoraggio del personale scolastico e non tuttavia va registrata l'assenza dell'organizzazione del servizio e il rimpallo di responsabilità tra regione Asle e medici di medicina generale. Se sia tutto pronto o meno bisognerà verificarlo sul campo. I comuni avranno facoltà di chiedere l'intervento della protezione civile dinanzi agli istituti in cui si prevedono rischi di assembramento. Un servizio che diventerà ancora più incisivo col rientro a scuola degli alunni delle superiori a partire dal primo di febbraio. Ogni dirigente scolastico potrà stabilire il calendario dei rientri tenendo conto delle percentuali indicate dal dpcm che prevedono dal 50 al 70 per cento degli alunni in classe. La didattica a distanza non dovrebbe essere abbandonata anzi il dispositivo regionale raccomanda anche se non obbliga ad attivarla per alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario o nel caso in cui in famiglia gli studenti abbiano parenti a rischio. Con la riapertura delle elementari in settimana si sono registrati diversi casi di positività al covid. In realtà il contagio nella stragrande maggioranza dei casi è avvenuto fuori dalle scuole che tuttavia rischiano di diventare dei moltiplicatori. Montefalcione, Avella, Domicella, Forino, San Nicola, Baronia, Bagnoli, San Martino, Valle e Caudina sono i comuni in cui o per ragioni logistiche o per la presenza di casi isolati e attività di screening in corso il rientro a scuola non avverrà lunedì.